Guarda, la Vittoria mi ha appena regalato questa mia polypocket di quando ero bambina, vero? Sta bene? Tu nonno ha regalato a te, non ha regalato a noi, non ha regalato a te, e io ho regalato a te. È bella? Quei polypocket di quando ero piccola, in cui c'è la foto della paperotta che avevo insieme alla testina, vero? No, no, no. L'amore e l'affetto tra tutti loro rimangono forti. Chiara si dedica ora ai suoi figli, cercando di mantenere un ambiente sereno e felice, nonostante i cambiamenti recenti nella loro vita familiare. Con i polypocket di quando ero piccola, in cui c'è la foto della paperotta che avevo, si chiamava testina, vero?